Siena e Pescara, stessi punti in classifica, percorso più o meno analogo. La certezza, entrambe sono in ritardo rispetto alle previsioni. Sesto posto, meno 8 dalla vetta della gradatoria occupata dalla Reggiana. Unica squadra del girone, tuttora imbattuta. Ultima chiamata per l'ex Gilardino. Auteri sotto osservazione. Gravissimo aver perso entrambi gli scontri diretti in casa contro Reggiana e Modena. Criticità legate soprattutto al centrocampo, pressoché privo di interdizione e di impatto fisico. Sarebbe interessante sapere quanti palloni sono stati recuperati in quella zona dall'inizio del campionato. Pochissimi. Il vero problema è lì. La lacuna è strutturale. Unico incontrista di ruolo Giuseppe Rizzo, che anche per motivi di natura fisica non ha ancora dato il contributo sperato. Quando gli avversari ripartono trovano praterie. Il Pescara è spesso lungo, spezzato in due, ancora senza una precisa identità. Non c'è compattezza. Nell'ultima partita, mai schermato, Gerli, regista del Modena, ha spadroneggiato. È stato il primo errore strategico. Auteri non imposta mai le partite sugli avversari. In questo momento senza dubbio un limite. I difensori malprotetti appaiono insicuri, titubanti per i tanti gol subiti e perché non sanno come comportarsi, se accorciare come spesso dovrebbero o no. La logica del centrocampo a tre diventa ora una necessità. A Siena, senza Dursi e lo squalificato Ianes, tornano Cancellotti, Drudi e a Punto Rizzo. Toscani privi di Paloschi e Terigi. Da valutare Favalli, Conzon e Bani. L'ultima volta al Franchi. 7 dicembre 2013. Serie B. Dominio assoluto del Pescara, allora guidato da Pasquale Marino. 3 a 1 il verdetto finale. Ragusa, Politano e Prodezza di Pippo Riccardo Maniero. Per i bianconeri di Beretta. La rete, peraltro irregolare, dell'uruguaiano Giacomazzi.